E c'è un'evidente invasione di campo, non stiamo qua a fare vittimismo, non mi interessa, però processare qualcuno che ha difeso i confini, la sicurezza, l'onore e la dignità del suo paese è vergognoso di un paese civile. Il solo pensarlo è vergognoso di un paese civile. E probabilmente più che a Washington qualcuno che ha questa interpretazione dell'indipendenza della magistratura potrebbe esercitare dall'altra parte del mondo, dove chi sbaglia non paga. Detto questo, se vogliono processarmi facciano cure, non vedo l'ora di portare insieme a me in quel tribunale, milioni di italiani che vogliono la sicurezza del loro paese. E conto che vi autodenunciate tutti e andiamo tutti insieme, anzi propongo al congresso l'autodenuncia di massa qualora decidessero di procedere. I favorevoli si alzino. e quindi cerchi in un'aula di tribunale abbastanza grande per processare un intero popolo.